Ciao a tutti, da qualche settimana ho in prova questo bellissimo proiettore GDC DLA-NP5, un proiettore nativo 4K con un ottimo rapporto di contrasto, con lampada, però con tone mapping dinamico e tante altre cose carine. Ho fatto varie misure, sto costruendo un articolo secondo me importante, però mi manca ancora qualcosina ed è per questo motivo che venerdì prossimo, venerdì di Pasqua, il 29, sarò da Entertainment Machine a Roma e passerò il pomeriggio a verificare le prestazioni di questo proiettore in comparativa con altri due proiettori GDC più o meno, un N7, ovvero un prodotto alla lampada della passata generazione e il top di gamma DreamVision su base GVC che abbiamo già utilizzato in un evento lo scorso gennaio e che secondo me è il più bel proiettore al di sotto dei 50 mila euro, quindi se siete curiosi invito da Entertainment Machine per fare un po' di cabaret, puro cabaret, assolutamente puro cabaret. Grazie a tutti.